Era il 1968, Alberto Marozzi, batterista, ha suonato con Jimmy Edrics e l'ha portato in giro per Roma con la sua 500, anzi lui ti ha chiesto pure una casa, se trovavi una casa in affitto a Roma, voleva restare? Sì, dopo un grandissimo giro lunghissimo tutta la notte perché praticamente dall'uscita del Titan dopo la session l'ho portato con la 500 insieme a una ragazza che parlava solamente italiano e con la sua chitarra che si era portata quella sera, l'ho portato in giro, siamo andati a mangiare a Via Veneto, erano verso le due e mezzo così, e poi l'ho portato in giro, ho fatto vedere il Colosseo all'interno, l'ho portato a vedere Villa Medici così e alla fine di questo giro mi ha detto Alberto, io devo trovare una casa a Roma, devo venire a vivere a Roma, e infatti poi mi ha scritto un numero di telefono, ma chiaramente io non l'ho mai usato perché poi, sai, a volte quando arrivano gli artisti a Roma chiedevano, ti dicevano delle cose che poi magari passava, erano cose dette, no? E comunque, insomma, poi appunto da lì a un anno e mezzo dopo praticamente Jimmy è scomparso e quindi la cosa è finita lì, però insomma lui si era innamorato di questa città. Voleva una villa praticamente? Sì, lui aveva detto una villa perché io l'ho portato a Villa Medici, che era aperta all'epoca, si poteva entrare, e io lì a Villa Medici ci andavo perché suonavo insieme al figlio di Baltus, che si chiamava Stas, era il cantante, e quindi lui abitava lì a Villa Medici, per questo io con questo accesso ho portato Jimmy a vedere questa villa, è impazzito, dicevo io anche, trovi una villa anche a me, che venga a abitare a Roma. Nella tua vita è rimasta questa cosa, tutti gli amici sanno che tu sei quello che portava in giro Jimmy Hendrix con la 500, ha scritto anche nel libro che ha detto che anche lei era in macchina con me quella sera con Jimmy, insomma, tutti l'hanno visto. Io poi quello che penso, questo è il mito che ormai è diventato, che all'epoca, voglio dire, anche al Brancaccio, ai concerti, non è che c'era tutta sta gente, però oggi sembra strano, al Brancaccio, al Taita c'erano tutti, tutti c'erano quella sera. Insomma, ma questo è proprio perché ti dà proprio la magia di questo grandissimo artista, che oltretutto era un grande uomo, era una persona di una semplicità incredibile. Tant'è vero che quando mi ha chiesto a me lui di suonare, perché quando eravamo al Taitan, alla fine quando abbiamo suonato mi ha scritto una dedica, mi ha ringraziato, be groovy, are off-site as a drummer, thanks Jimmy Hendrix, sì, favoloso, fuori dal comune come batterista, grazie Jimmy Hendrix, roba che quando mi ha detto andiamo a suonare io morivo, dico adesso qui succederà via. E tu ce l'hai questa dedica della 7-1? Ce l'ho, ce l'ho, certo. E beh, certo. Ma è vero che se era... Ho fatto anche una copia, gliel'ho data a Carlo Verdone, amico, anche lui, Hendrixiano, e quindi... Sono tantissimi seguaci, Jimmy Hendrix, e pensa che lui ha lasciato la chitarra dentro la 502. Ah sì, sì, infatti quella sera, dopo alla fine alle 6 di mattina, lui stava all'hotel Metropole, alla stazione Termini, e a un certo punto io l'ho accompagnato e poi sono tornato a casa, mentre stavo chiudendo la 500 ho visto il manico della chitarra dietro. Lui me l'aveva lasciata praticamente lì, e io che ho fatto? Anziché tenermela, e mi avrebbe cambiato la vita, l'ho portata, sono ritornato in albergo al Metropole, gliel'ho lasciata lì alla consiergia, all'Uomo della Notte, e ho detto questa gliela date a Hendrix, perché se l'è dimenticata in macchina. E vabbè, succedeva. È incredibile raccontare una storia così a distanza di tanti anni. 25 maggio 1968, stiamo parlando della preistoria praticamente. E questo giro per Roma, surreale poi, peraltro. No, ma la cosa bella, mentre eravamo in giro così con la macchina, a un certo punto gli ho preso la mano, Jimmy, dammi un attimo la mano, ho preso la mano di Jimmy e l'ho messa a confronto con la mia mano, e c'era praticamente, ecco, la mano di Jimmy era più lunga così. E questo si spiega anche perché lui con questa tastiera della chitarra faceva degli accordi impossibili, perché c'aveva una mano, poteva fare qualsiasi cosa. C'aveva una mano di Gianni Morandi praticamente. Più lunga di quella di Gianni Morandi. E quindi, sai, lui aveva questa cosa in comune, questa cosa che gli permetteva di fare queste note strane. Ma tu l'hai visto quando suonava con la bocca, con i denti praticamente, pizzicava le corde? Certo, anche perché era una cosa richiesta, cioè ormai lui sembra quasi strano, è diventato famoso subito in quel periodo. Poi perché, infatti tutti dicono, c'è un chitarrista che suona con i denti, e quindi lui, che in realtà lui la pizzicava con gli incisivi, e toccava le corde e suonava lo stesso, perché lui comunque poteva fare tutto con la chitarra. E quindi lui sembra strano, prima è diventato famoso perché stuprava la chitarra, perché la trattava così, capito, faceva questa musica a modo suo. Ma a fuoco, faceva le facce di tutti i colori. In realtà era un grande, un grande, ha scritto delle opere, veramente le sue canzoni sono delle cose... E poi, perché tutti parlano della chitarra come chitarrista, ma lui era geniale su tutto l'insieme, era di una semplicità disarmante, come tutti i geni, che non se ne rendono conto di essere così grandi, così bravi, insomma. Agli 80 anni del compleanno della chitarra, praticamente, un libro di Roberto Crema, che era la storia di Jimi Hendrix in Italia nel 1968, dove dentro ci sono tutte le tappe di Jimi Hendrix al Titan, le foto... Le più belle foto... Ecco, queste sono le foto del Titan la sera, il 24 sera, la prima sera quando l'abbiamo portata al Titan. E queste sono le foto... Ecco, le vedi, quelle sono di Roma, sono quelle del Brancaccio, quelle prima. Questa è un ristorante da Alfredo alla Scrofa, dove loro esibiscono questa foto, ormai se vai al ristorante Alfredo c'è praticamente questa cosa. E queste sono le foto sempre del Titan Show di Roma, queste sono tutte di Roma, tutte vere di Jimi Hendrix. Ecco, quella invece è a Bologna, quella là. Ma ci mancano le tue foto in 500, ma non c'avevi una macchinetta fotografica? No, non era come oggi. Come è possibile? Se avessero inventato il telefonino nel 68, probabilmente avevo tutto, video, foto, ma mi è rimasta questa dedica e questo regalo immenso che mi ha fatto Jimi, perché con questa musica, con questa opportunità che ho avuto di poter suonare con lui e passare due giorni con lui è stato un regalo... Questa è la locandina? Teatro Brancaccio, Titan, Top Show, Jimi Hendrix, Experience... C'era Pierfranco Colonna come supporter... E vedi? E tu suonavi la batteria? Presentava Eddie Ponti. No, io suonavo in un altro gruppo, ma mi sono trovato così... Jimi mi ha detto così, sono stato fortunato, perché c'erano i due ragazzi che suonavano con lui, Mitch Mitchell e Noel Redding, la seconda sera che stavano con le ragazze, avevano un po' bevuto, non gli andava di suonare, allora Jimi me l'ha chiesto a me. Ti sei dato una risposta, perché l'anno dopo il grandissimo concerto di Woodstock... Sì, Woodstock che io tra l'altro ci volevo andare, però lavoravo in fabbrica all'epoca, non potevo andarci. E poi quando ho saputo la notizia, ho pianto, ho pianto tantissimo, perché per me era come un amico, è come se l'avessi conosciuto da sempre, tant'è vero che me lo sono sognato un sacco di volte. Una volta l'ho sognato quando stavo organizzando il mio compleanno dei 50 anni e lui mi ha detto che mi dovevo rimettere a suonare e io praticamente ho rifatto subito un gruppo, mi sono rimesso a suonare... A distanza di anni. E al mio è il compleanno proprio dei 50 anni, che ho fatto una festa al Piper con tutti, con Carlo Verdone, in due con la batteria, organizzato e abbiamo suonato Hendrix pure quella sera. Ma ti sei dato una risposta a questa misteriosa morte di Jimi Hendrix di cui si favoreggia? Per me non è che è stato soffocato dal vomito, come hanno detto. Lui era diventato troppo importante, la Black Power era nero, quindi insomma c'è stato sempre... All'epoca, ancora oggi, qualche traccia di razzismo c'è ancora e all'epoca chiaramente era troppo all'avanguardia, era troppo avanti e quindi secondo me è stata una gran messa in scena questa cosa della morte di Hendrix, che dicono che è morto soffocato dal vomito. Ma tutti noi, quelli che l'abbiamo conosciuto, insomma non ci ha creduto mai nessuno. E quindi rimarrà un mistero, un mistero che comunque, se anche fosse stata voluta, l'hanno fatto diventare un mito. Perché se oggi Jimi non fosse morto, lo potevamo ancora continuare a vedere a suonare, come vediamo Mick Jagger, Rolling Stones, eccetera, perché comunque anche Santana, per cui, non lo so, evidentemente questa era scritta così, rimarrà sempre un mistero, ecco. Senti, se fosse il giorno dopo quella fantastica, mitica notte con Jimi Hendrix e tu avessi lui vicino, che cosa gli diresti per salutarlo? Adesso? Eh beh, se avessi saputo che era l'ultima volta che lo vedevo, quando l'ho portato in albergo, beh, forse non l'avrei lasciato, sarei rimasto lì con lui. Mi sarei, avrei preso una stanza al Metropole, sarei rimasto lì a dormire in albergo in un'altra stanza e l'avrei seguito. Perché lui me l'aveva anche accennato se volevo lavorare con lui. Però sai, io, insomma, all'epoca lavoravo in fabbrica, avevo mia madre da sola, quindi, insomma, non lo potevo lasciare. Però se avessi saputo che da lì a un anno e mezzo Jimi moriva, probabilmente non l'avrei lasciato. Sarei rimasto con lui. E quindi, e sono qui a parlarne ancora dopo quanti anni. Ormai dal 68 stavo parlando di una vita. Ormai mi sono invecchiato pure, insomma, con questo racconto di Hendrix che l'avrò raccontata non so quante volte. E quindi, vabbè, comunque, insomma, è un regalo. Qualcuno ti avrà detto mentre raccontavi Amarozzi ma non ci racconta queste storie. Eh, basta. No, oppure che non ci raccontavi e non ci credevo. No, ma... Non c'è ne manca una foto. Ma non ci credevo nemmeno io all'epoca. Io in quel momento quando ho fatto questa serata con Hendrix mentre suonavo e io pensavo, ci avevo 24 anni, e io mentre suonavo con lui pensavo dentro di me e dicevo ma quando io racconterò sta storia non mi crederà nessuno quando c'ero a 50 anni, pensa, adesso ce n'ho addirittura 67. Quindi io dicevo no, non ci crederanno. Ma mentre suonavo perché mi ero già reso conto, mi rendevo conto che mi stava capitando una cosa talmente grande che... che... appunto, nessuno ci avrebbe creduto da lì ad oggi. E quindi l'ho vissuta la potrei raccontare un miliardo di volte perché l'ho vissuta e come ogni volta la rivivo e quindi c'ho la stessa... le stesse sensazioni che ho provato in quel periodo. Per gli 80 anni il compleanno della chitarra rock, il pick-up che ha cambiato la storia della musica attraverso la chitarra, era questo strumento diciamo elettromagnetico che veniva messo sulle corde che quindi dava questo suono particolare, il pick-up, ha cambiato veramente la storia della musica. Salutiamo noi adesso da qui Jimi Hendrix che è quello che ha interpretato meglio questo grande strumento musicale che è la chitarra elettrica. Grazie. 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 Grazie.